Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio e Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Gela, dove la polizia ha tratto in arresto un 37enne che è stato poi condotto in carcere, era infatti evaso mesi fa dai domiciliari e si era reso irreperibile. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un 37enne gelese in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la locale Corte d'Appello, dovendo lo stesso scontare una pena residua di 3 anni, 6 mesi e 25 giorni per tentato omicidio e spaccio di stupefacenti. L'uomo, gravato da precedenti giudiziari, era già stato arrestato dalla Polizia di Stato nel settembre del 2019 per detenzione ai fini di spaccio di droga e dopo un breve periodo agli arresti, era stato scarcerato e arrestato nuovamente dal commissariato nel marzo del 2020 per tentato omicidio aggravato. Per i reati concernenti gli stupefacenti era stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta a 2 anni e 6 mesi di reclusione e per il tentato omicidio, sempre dalla stessa Corte, era stato invece condannato alla pena di 4 anni di reclusione. Al 37enne era stato concesso di scontare la misura cautelare, cui era sottoposto a seguito dei due arresti, ai domiciliari che stava scontando in provincia di Ragusa e dai quali lo scorso giugno era evaso. I poliziotti del commissariato di Gela hanno rintracciato l'uomo ponendo fine alla sua fuga e conducendolo in carcere per l'espiazione della pena residua. Controlli dei carabinieri nel quartiere di San Cristoforo a Catania ed una 29enne è finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio un catanese di 29 anni già noto alle forze dell'ordine per pregresse vicende penali connesse ai reati contro il patrimonio. I militari dell'arma, nel corso di un articolato servizio volto a contrastare lo smercio di droga nello storico quartiere di San Cristoforo, hanno avviato il monitoraggio dei movimenti del pusher che bloccato in via Mulini a vento ha subito rivelato un forte stato di agitazione. E' quindi scattata la perquisizione presso la sua vicina abitazione durante la quale l'uomo, su invito dei carabinieri e per alleviare le inevitabili conseguenze giudiziarie connesse alla sua condotta illecita, ha prelevato dall'armadio della camera da letto un borsone con all'interno una pietra di cocaina dal peso di 59 grammi, sufficienti per la suddivisione in 223 dosi per un valore al dettaglio di circa 4.000 euro, nonché un bilancino di precisione recante tracce della stessa sostanza stupefacente. Consegnata poi anche una macchina per il confezionamento sotto vuoto, segno evidente della preparazione di grossi quantitativi di droga. Il soggetto è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto disponendone la custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza. Mestiamo nel catanese. Il Tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari per gli indagati dell'operazione condotta dai carabinieri e denominata terra bruciata. Tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi si sono concluse le udienze presso il Tribunale del Riesame di Catania delle posizioni dei 21 indagati destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione denominata terra bruciata. Al riguardo, a riprova della solidità delle risultanze investigative acquisite dai carabinieri sulla scorta delle direttive della DDA catanese, il giudice ha valutato l'attualità delle esigenze cautelari al loro carico confermando la custodia in carcere per 16 soggetti mentre per i restanti 5 ha disposto la loro sottoposizione agli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Randazzo tra il luglio 2018 e il gennaio 2021 ha consentito di monitorare le evoluzioni delle dinamiche associative del clan Laudani individuandone, allo stato degli atti, l'attuale responsabile per l'area di Randazzo in Salvatore Sangani, inteso Turi, referente di zona per Paolo Di Mauro, deceduto nel corso dell'indagine e figura apicale finché invita dei Laudani per l'intera fascia ionico-etnea. Una violenta rissa scoppiata nell'isola di Vulcano ha portato all'emissione di ben nove daspo urbani, ovvero il divieto di accedere in determinate aree della città per i responsabili di questa rissa. Sono nove i soggetti nei cui confronti è scattato il provvedimento di Dacur, comunemente detto daspo urbano, con una durata variabile tra i 12 e i 24 mesi. Riconosciuti i quali i protagonisti di una violenta rissa verificatasi nella notte dello scorso 7 agosto nell'isola di Vulcano, non potranno stazionare nei pressi né accedere a locali ed esercizi pubblici presenti all'intero territorio del comune di Lipari. Il severo provvedimento di divieto d'accesso alle aree urbane è stato emesso dal questore Ioppolo, a seguito di specifica attività istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura di Messina, che ha attentamente esaminato il profilo criminale dei nove soggetti su segnalazione dei militari in servizio presso la Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Milazzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli autori della rissa non avrebbero esitato a colpirsi reciprocamente utilizzando anche oggetti contundenti. In un caso, le lesioni riportate da uno dei soggetti implicati hanno reso necessario il trasporto a mezzo a lì soccorso presso il Policlinico di Messina. La pericolosità sociale, manifestata a vario titolo dai diversi autori della rissa, che sembrerebbe scaturita da un'errata manovra automobilistica, nonché l'assoluta non curanza con la quale gli stessi hanno agito nel contesto dell'isola eoliana, in un periodo di massima affluenza, hanno comportato uno stato di grave disordine e pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il questore ha firmato i DACUR per garantire la pubblica incolumità e preservare il rispetto delle regole in uno dei luoghi più turistici della provincia. Doppia notizia dall'Agrigentino, la prima da Alicata, parliamo di un doppio scippo avvenuto ai danni di due anziane. I fatti sono avvenuti in via Gela e una delle signore coinvolte è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo che le hanno diagnosticato delle lesioni sparse sul corpo. Ad agire sarebbe stato lo stesso malvivente, pare con il volto parzialmente travisato, ma gli inquirenti non escludono che possa esserci anche un complice. Nella vicenda ovviamente si stanno occupando le forze dell'ordine, i carabinieri della compagnia di Licata e i poliziotti del locale commissariato che hanno già avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile o ai responsabili di questo doppio scippo. Seconda notizia dall'Agrigentino arriva invece da San Biagio Platani. I carabinieri hanno infatti tratto in arresto un ventotenne residente proprio a San Biagio Platani. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine e sottoposto attualmente ai lavori di pubblica utilità presso il comune di Alessandria della Rocca. Il giovane è accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. Il ventotenne, sottoposto a una perquisizione personale durante un controllo dei carabinieri, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish pronti per essere spacciati. Pertanto il pusher, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato posto agli arresti domiciliari. Notizia invece da Caltanissetta, dalla provincia di Caltanissetta. Parliamo di controlli effettuati in questo caso sul territorio nisseno dagli agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato ben 13 persone. Vediamo perché. La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, ha denunciato 13 persone all'autorità giudiziaria, eseguito 12 perquisizioni e sequestrato hashish e cocaina. Due persone, un quarantenne e un ventiquattrenne, sono stati deferiti per porto di armi o d'oggetti atti a offendere. Il primo, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di due bastoni che teneva in auto, il secondo invece in possesso di un coltello. Un trentenne è stato denunciato per abbandono di minori, un ventiduenne per il reato di atti persecutori e un quarantaseienne per il reato di diffamazione. Quattro persone sono state invece deferite per reati concernenti sostanze stupefacenti. A un diciannovenne, gli agenti hanno sequestrato 26 grammi di cannabinoidi, a un quarantenne è stata sequestrata cocaina e a due ventenni hashish. Altre quattro persone sono state denunciate rispettivamente per minacce, calunnia, procurato allarme e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, infine, sono state eseguite 12 perquisizioni personali. A Custonaci, invece, nel Trapanese, sempre durante un controllo delle forze dell'ordine, sono stati denunciati due giovani. I carabinieri, infatti, li hanno sorpresi in sella a uno scooter rubato e durante poi un controllo, una perquisizione, sono stati trovati in possesso di coltelli e passamontagna. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Custonaci hanno denunciato per il reato di ricettazione e porto di armi o d'oggetti atti a offendere due soggetti di Paceco appena maggiorenni con precedenti di polizia. I militari dell'arma, impegnati in un servizio serale di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati predatori, hanno notato i due giovani a bordo di uno scooter privo di targa, i quali, alla loro vista, hanno aumentato la velocità, cambiando spesso direzione tra le vie del paese. Insospettiti da tale atteggiamento, i carabinieri li hanno bloccati procedendo al controllo dei documenti per l'identificazione. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo senza targa sul quale viaggiavano era oggetto di furto. Sottoposti poi a perquisizione, sarebbero stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico, due passamontagna e tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dagli operanti, mentre il ciclomotore è stato prontamente restituito all'avente diritto. La Guardia di Finanza ha invece sequestrato ben 30.000 giocattoli in una ditta gestita da un cittadino cinese a Vizzini. Nel Catanese si tratta di giocattoli non conformi e per questo potenzialmente pericolosi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito del dispositivo posto al contrasto delle condotte illecite di contraffazione di marchi e brevetti, di immissione in commercio di prodotti non sicuri, di falsa o fallace indicazione dell'origine o della provenienza delle merci, hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti e della conformità della marcatura CE, attestante la qualità degli articoli posti in esposizione per la vendita al pubblico, sottoponendo a sequestro amministrativo circa 30.000 articoli non conformi costituiti da giocattoli per bambini, quali macchinine, giochi ad acqua, pupazzetti, bambole, pistole e costruzioni. I finanzieri della Compagnia di Caltagirone hanno ispezionato una ditta individuale gestita da un cittadino di etnia cinese allocata nel comune di Vizzini, rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti non conformi alle vigenti normative comunitarie attestanti gli standard di sicurezza e qualitativi previsti in seno ai prodotti ludici da destinare ai bambini. Tale risultato ha permesso dunque di contrastare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per composizione e qualità, bloccandone la successiva immissione in commercio nel distretto del Calatino, a dimostrazione della grande attenzione del corpo verso la repressione di tali fenomenologie illecite. Al termine delle attività, l'esercente di origine cinese è stato segnalato alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre i prodotti non sicuri sono stati posti in sequestro amministrativo e ritirati dal mercato al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, nonché la leale pratica concorrenziale di mercato. Silvio Berlusconi con un video su Instagram è tornato a parlare del ponte sullo stretto di Messina. Come avevamo promesso, ha detto il Cavaliere, tra i primi atti di questo governo è stato scritto un nuovo codice degli appalti. Con il nuovo testo, secondo le nostre previsioni, più dell'80% degli appalti oggi in essere avrebbe potuto essere più veloce. Abbiamo creato le condizioni, ha aggiunto il Cavaliere, per realizzare una grande opera necessaria, il ponte sullo stretto di Messina, che però è stata poi fermata dai governi di sinistra. Oggi finalmente si sono convinti tutti della bontà della nostra intuizione, apriremo finalmente i cantieri nei prossimi mesi. E con le parole di Silvio Berlusconi ci fermiamo, per il momento è tutto, ma ovviamente l'informazione prosegue su Sicilia 24. A più tardi.